OmniHD rende disponibili connessioni dati ad alta velocità come il wifi, l'HSDPI e l'HSUPA che permettono di caricare e aggiornare rapidamente i siti di social networking in modo molto semplice nel menu applicazioni trovo il mondo delle communities con i miei siti preferiti molto semplicemente io posso selezionare un sito e organizzare il caricamento di un file multimediale come può essere un'immagine o un video direttamente dal mio telefono cellulare seleziono il file che voglio caricare sul mio blog ad esempio un'immagine la carico assegnerò un titolo e in pochi secondi il mio file verrà caricato sulla pagina web a questo punto non mi resta che accedere al sito direttamente dal mio telefono cellulare e verificare effettivamente lo stato e l'aggiornamento del mio blog a questo punto non mi resta che ci sento di salire a questo punto non mi resta che non mi resta è un video che mi resta